Un maltempo davvero molto forte purtroppo in Australia, precisamente a Sydney. La città infatti è purtroppo ad oggi allagata migliaia le persone che sono state fatte evacuare per colpa proprio del maltempo incipiente. Diverse aree dell'Australia, del New South Wales, si sono andate ad allagare grandemente e addirittura una diga, la diga Guaragamba, è andata a essere sfondata e l'acqua ha letteralmente coinvolto centri abitati e diverse città, diversi nuclei familiari. 700 in totale le operazioni di soccorso che ci sono state da parte proprio dei vigili o meglio della protezione civile australiana per far fronte ad una situazione o meglio ad una condizione devastante a livello ambientale. Acqua su acqua, allagamenti, diga sfondata, migliaia di persone evacuate per colpa di questo maltempo che è sovraggiunto in Australia. Vi ringrazio per l'ascolto cari utenti di Youtube e per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, ciao e al prossimo video da Leandro.